L'Italvolley della World League non convince ancora anche se vende cara la pelle. La versione rimaneggiata della nazionale italiana argento alle Olimpiadi di Rio con sette nuovi innesti nella rosa dei giocatori ha bisogno di maturare e giocare ancora tanto insieme per trovare la giusta amalgama all'insegna della continuità e dell'identità di squadra. Come aveva detto coach Blengini l'apertura della fase pesarese della competizione. Prima di tutto dispiace per la sconfitta, dispiace per quel terzo set dove loro sono stati bravi onestamente e Lucarelli ha trovato un turno di battuta veramente molto molto buono a parte l'ultima palla dove lì c'è mancato un pizzico di fortuna noi però è quello dispiace, dispiace perché comunque credo che la squadra meritasse quanto meno di allungare la partita e credo che abbia dimostrato non solo voglia di stare a soffrire, voglia di lottare anche quando è sotto contro una squadra che è chiaramente di primissimo livello. Quindi è chiaro che al di là del risultato della partita di oggi credo che si veda una squadra che ha la disponibilità e la volontà di andare avanti e cercando di migliorare quotidianamente il proprio giorno.